menage a trois giada mette un annuncio su craiglist per trovare amicizie infatti è da poco in città e non conosce nessuno riceve diverse risposte e alla fine ne sceglie una perché la ragazza che ha risposto ha allegato una fotografia di se stessa e sembra una persona reale poi dice che le piacciono i cani e questa è un'indicazione di sincerità secondo giada giada scambia il numero di telefono con la sua nuova amica barbara e le due parlano al telefono giada parla un po del più e del meno e si assicura che barbara non è lesbica e alla fine decide di incontrare barbara giada non ha niente contro le lesbiche ma lei sta cercando un'amicizia platonica e siccome la maggior parte della gente presente su craiglist è alla ricerca di incontri sessuali giada preferisce mettere le cose in chiaro barbara ride al telefono e assicura giada che capisce perfettamente i suoi timori le chiede di non scusarsi e le garantisce che lei ha gli stessi timori riguardo ad incontrare gente tramite internet poi la rassicura riguardo il fatto che anche lei sta solamente cercando un'amicizia platonica e niente di più dopo un'ora a chiacchierare giada pensa di aver finalmente trovato un'amica e acconsente ad incontrare barbara in un bar giada arriva un po in ritardo e quando arriva riconosce barbara e si avvicina al tavolo barbara è seduta con un uomo ed entrambi sorridono a giada ciao chi è il tuo amico chiede giada scusa dice barbara ma la mia macchina è rotta e allora il mio amico giulio mi porta in giro è un problema chiede no no dice giada un po perplessa giada si diverte e barbara e giulio sono entrambi simpatici il giorno seguente barbara manda un sms a giada e le chiede se vuole andare a cena in un nuovo ristorante giada accetta e domanda a barbara se ha ancora problemi con la macchina e se ha bisogno di un passaggio barbara dice di no e aggiunge che la sua macchina funziona adesso alle sette giada arriva al ristorante e trova barbara seduta al tavolo con giulio cosa succede chiede giada la tua macchina sì dice barbara il fumo esce dal motore ogni volta che accelero e allora ho telefonato a giulio non fa niente vero no no giada prende un biglietto da visita dal suo portafoglio e lo porge a barbara ecco dice questo è il numero del mio meccanico chiamalo ti sistema la macchina per un buon prezzo oh va bene dice barbara guardando giulio i due cenano e poi chiedono a giada se vuole andare a bere qualcosa a casa di giulio ma giada è stanca e dice che preferisce andare a casa il giorno dopo barbara telefona a giada e le chiede se vuole andare a fare shopping giada e barbara si incontrano al centro commerciale e si divertono molto giada compra una gonna ed un vestito estivo e barbara compra un paio di jeans e una borsa dopo aver fatto shopping giada ha fame e vuole andare a mangiare qualcosa ma barbara dice che sta facendo una dieta e quindi non vuole andare in un ristorante però invita giada a cena da lei così può continuare la sua dieta giada segue barbara al suo appartamento e parcheggia fuori quando entrano in casa trovano giulio che guarda la televisione oh non sapevo che eri qui dice barbara scusa ho trovato la porta aperta e sono entrato dice giulio sorridendo a giada oh cavolo hai lasciato la porta aperta chiede giada scoppiando in una risata sono un po svanita dice barbara sorridendo a giulio i tre cenano e giulio versa un bicchiere di vino dopo l'altro a giada quando finiscono di cenare si siedono sul divano e giulio accarezza la mano a giada oh cazzo dice giulio che succede chiede barbara dorme dice giulio barbara sveglia giada giada dice che è troppo stanca per restare e vuole andare a casa a dormire giulio le dice che può dormire nel loro letto se vuole ma giada dice che preferisce andare a casa e chiama un uber giulio e barbara si guardano e poi guardano la televisione in silenzio che c'è ragazzi siete arrabbiati chiede giada giulio non risponde e barbara guarda fuori dalla finestra il tuo uber è arrivato cara meglio che scappi dice barbara in tono sprezzante ok dice giada perplessa dopo una settimana circa giada manda un sms a barbara ma non riceve risposta che strano barbara non manda più messaggi tutti i giorni perché adesso non risponde neppure ai suoi messaggi giada prende il telefono e chiama il numero di barbara ma una voce registrata le ripete in modo meccanico che il numero chiamato non è più in servizio grazie a tutti